Restiamo sul territorio ma andiamo a Pavia dove domenica scorsa è stato eletto il nuovo segretario provinciale della Lega Nord, Roberto Mura. Sentiamo il suo programma. Roberto Mura che proprio oggi è stato eletto segretario della Lega Nord per la provincia di Pavia. Allora innanzitutto le chiedo quale sarà il suo programma per quanto riguarda la segreteria di Pavia e cosa si aspetta in particolare da questa assemblea nazionale della Lega Lombardi? Pavia esce da una situazione abbastanza critica, 19 mesi di commissariamento per cui c'è molto da fare. Io ho già fatto segretario provinciale nella mia provincia tra il 2006 e il 2010, poi gli impegni parlamentari essendo stato in Senato nella scorsa legislatura mi hanno dovuto far lasciare l'incarico e da lì è iniziata una fase molto tribolata. Per cui primo aspetto è rimettere un po' d'ordine dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista anche dei rapporti interni. Sono molto ottimista però perché il direttivo provinciale che mi affiancherà in questo lavoro è un direttivo di altissima qualità, veramente molto molto forte proprio dal punto di vista di quello che sono le competenze personali, professionali e politiche di tutti i vari membri. Quindi sono molto ottimista da questo punto di vista. L'assemblea come questa sicuramente ci si aspetta quello di avere sempre nuove indicazioni, nuovi spunti per quello che è l'attività politica sul territorio che ciascuno di noi fa. Quindi venire qui, ascoltare, contribuire al dibattito sui temi della politica della Lega a livello locale e nazionale è assolutamente fondamentale. Per cui ci si aspetta sempre molto. Vedo che i contributi che arrivano dagli interventi sono molto interessanti. Il segretario nazionale Lombardo Salvini ha detto concentrarsi magari su poche cose però concrete per dare risultati poi, per ottenere risultati concreti. Per Pavia quale sarebbe un punto che riguarda questo? Beh, sicuramente uno degli aspetti che dobbiamo curare immediatamente è quello di riprendere autorevolezza. Perché chiaramente quando una segretaria provinciale è commissariata in quello che sono i rapporti con le altre forze politiche, diciamo degli alleati, tra virgolette, o degli avversari, se non c'è autorevolezza è molto difficile arrivare a quello che sono trattative anche importanti che vedono in gioco quello che sono i lavori, che ci sono per lavori intendo veramente lavori in senso lato in provincia di Pavia. Quindi recuperare autorevolezza e compattezza interna. Grazie. Grazie.